E' bello a tutti ragazzi ed eccoci qui con un nuovo video, allora questo è un video molto molto ma molto particolare perché ci mi conoscerete di più e anzi ci conoscerete di più perché qui con me c'è Rossana Anselmovic trattino basso 08 Faremo oggi un'intervista doppia con sua sorella, c'è mia cugina anche, che riprenderà, vieni, cioè riprenderà fare le domande Ok, sono sua sorella, quindi ragazzi spostiamoci nell'area dove dobbiamo fare il video e comunque vi lascio il link in descrizione del suo canale perché anche da lei uscirà un'intervista doppia Non uguale alla mia però, cioè le stesse domande però non simile, ecco, quindi ci spostiamo in area intervista e niente, a dopo Ok ragazzi ci siamo spostati in stanza intervista quindi diamo inizio Nome? Giada, Rossana, cognome? Purpura, Anselmo, secondo nome? Maria, non ne ho, ola Soprannome? Giada, Giadussa, Giadunzola, Giadunzola, Giadi, eccetera Ero, Rossi, Rossana, e boh Età? 15 10 Dove vivi? Sicilia, Italia Sicilia, pure Cosa vorresti fare da grande? Youtuber, influencer, cameriera? Eeeh, youtuber, estetista, professoressa, eccetera Quanto sei alta? 1,50 1,38 Qual è la tua passione? Youtube Eeeh, youtuber, musicali, eccetera Sei fidanzata? No No Hai figli? Sì Cosa? No Hai mai pensato al suicidio? Secondo Ci sono stati troppi compiti Io pure Hai tatuaggi? No No, ma me lo farò Hai piercing? No, ho un secondo orecchino ma non so se specificarlo piercing Io neanche ma me lo farò odio Colore dei capelli? Piondo Marrone Castano Colore degli occhi? Castano Castano Titolo di studio? Terza media Al momento Quinta media Quinta media Quinta la menta media? Quinta elementare Ok Che? Metodo depilatorio? La menta o ceretta? Io niente Porti gli occhiali? No No Che? Hai mai fumato? No No Ti sei mai ubriacata? Una volta con parenti Perché non mi piace la birra Una volta con parenti e compagnosa Un ricordo dai 0 ai 10 anni? Non mi ricordo Io Il mio ricordo più bello è stato quando sono andata a Etna Un ricordo dai 10 a 20 anni? Quando i miei compagni di scuola delle medie mi sono venuti a trovare sotto casa Io ancora non ho 20 anni? No Dio Quando ho debole? Fisicamente quando mi fanno soledico Psicologicamente quando vengo delusa Io pure Quante vi sono piaciute queste domande? Da 1 a 10? 10 Quanto avete risposto sinceramente alle domande? Da 1 a 10? 9 8 e mezza 3 5 6 Ok ragazzi Ok ragazzi Per questo video è tutto Le domande le ha fatte mia madre Perché c'è stato un contrattempo Le non le ha potute fare quindi Mamma saluta Ciao Mamma cosa devono fare in questo video? Devono mettere Like Quindi iscrivetevi al mio canale Se il video vi è piaciuto mettete like Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale